Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui, quinto aggiornamento della seconda stagione al comando dell'Inter. Se avete già visto comunque altri episodi di questa carriera siete già aggiornati, altrimenti vi lascio il link come al solito qui in basso al video. Voi basta che ci cliccate e vi rimanda direttamente al primo episodio. Comunque ragazzi, dopo avervi fatto vedere i sorteggi del girone di Champions, che ricordo, siamo stati sorteggiati con lo United, lo Zenit e il Grasshopper. Grasshoppers proprio che sarà la prima squadra con cui debutteremo in Europa. Finalmente, mi viene da dire, l'Inter è tornata in Europa dopo anni e anni di astinenza. Quindi speriamo di far bene, consigliatemi tutto quello che vi viene in mente che faremo una stagione da UFO. Comunque, siamo qui in campionato, oggi ho simulato addirittura tre partite. Non ve ne ho volute portare tante perché sennò dopo veniva un video magari anche troppo lungo e non era così scorrevole. Allora, questo è il riepilogo delle partite fatte fino adesso. Le amichevoli, la Supercoppa e tre partite di campionato appunto. Il dato buono di queste partite è che non ho ancora, e adesso qui mi porterò sfiga, subito una sconfitta. Comunque, partiamo. Allora, la Juventus, ve lo ricordo, Supercoppa italiana. Se volete rivederla che non l'avete vista, vi lascio il link qua, dove c'è scritto Supercoppa finale, voi cliccate e andate al link della partita. Crotone. Pensavo fosse una trasferta un po' più semplice. E questo risultato non è del tutto veritiero. Quindi vi voglio far vedere anche il perché. Adesso lo guardiamo in modo un po' più approfondito, senza subentrare troppo sulle azioni, che ci vengono dei caricamenti troppo lunghi. Questa è la partita. Guarin e Gabbiadini. Gabbiadini che sta giocando molto bene, ve lo anticipo. E poi abbiamo preso un gol all'ottantesimo da Perez. Però, un 2-1 che non è veritiero. Perché? Perché vi faccio vedere le statistiche. Quest'Inter ha fatto 30 tiri, di cui 14 in porta e 15 fuori. Quindi 29 ma io ho rotondato. Possesso palla è pari, ma la differenza la fanno i tiri, perché loro ne hanno fatti appena 3. Quindi è un risultato che poteva essere molto molto più rotondo. Gabbiadini migliore in campo, grande risultato, quindi. Bertolacci è entrato verso la fine, infatti non ha neanche il voto. Bellucci e Palassio sono subentrati. Comunque prestazione abbastanza buona della squadra, a parte un erroraccio di Juan Jesus, che ha permesso il gol di Perez. Però pazienza. Ho fatto una cavolata. È successo un po' come l'anno scorso, quando Jonathan è andato in prestito. Sapete che vi avevo chiesto se volevate che Balanta rimanesse o andasse in prestito per una stagione. Ok, io sono andato in vacanza e me l'hanno mandato in prestito. Quindi mi sono ritrovato al ritorno dalle vacanze con un Balanta in meno. Ma soprattutto mi sono ritrovato al ritorno della vacanza con Antonelli infortunato e Murro infortunato. Quindi già i due terzini sinistri che avevo erano fuori uso. Balanta poteva essere adattato a sinistra, ma era in prestito. È andato all'Atletico comunque e ritornerà tra un anno. Quindi ho dovuto metterci Obi, che comunque ha fatto la sua partita. Dai, non posso lamentarmi. Quindi partiamo con una vittoria questo campionato, ma vissiamo subito anche con il Napoli in casa. La partita è stata molto combattuta, devo dire. Ancora in gol Gabbiadini, che in questa partita ha fatto assist e gol. Assist perché l'ho messo a battere anche le punizioni. L'ha fatto un cross in mezzo dove poi Ranocchi ha fatto il gol di testa, chiaramente. La cosa che mi è piaciuta molto è che eravamo sotto 1-0 e siamo riusciti a recuperare. Quindi veramente, veramente un'ottima cosa questa. Veramente è stata una partita molto combattuta, soprattutto nel secondo tempo dove poteva finire in qualsiasi modo. Abbiamo avuto due infortuni, Guarin e Giorginio, però sono lievi comunque, quindi niente di preoccupante. Gabbiadini ancora migliore in campo, quindi per il momento si sta rivelando veramente un acquisto azzecatissimo contro un'ottima squadra, perché il Crotone, magari squadra appena arrivata in Serie A, si poteva pensare anche che fosse un migliore in campo fittizio, ma comunque con il Napoli gran risultato, devo dire. Napoli che oltretutto ha acquistato Negredo, quindi ha rinforzato anche l'attacco. E poi un pareggio con la Samp al Ferraris. La Samp si sta dimostrando ancora una squadra molto ostica come l'anno scorso, quindi secondo me potrà far bene anche quest'anno. È arrivato in Europa League, se mi ricordo bene, l'anno scorso, però quest'anno, adesso non mi ricordo come è iniziato, però ha fatto una gran partita contro di noi. Vabbè, abbiamo Zuccolini, D'Ambrosio, infortunati lieve, e Taider che si è fatto veramente male. Vi faccio vedere le statistiche. Poi passiamo alla classifica. Come vedete qua è stata la partita veramente, veramente alla pari. Abbiamo tirato meno noi, hanno tirato un po', un tiro in più loro, insomma. Però uno 0-0 che dopo tutto ci può stare. Abbiamo sofferto abbastanza, anche perché questa è stata la partita del ritorno in campo di Antonelli, che come vedete ha concluso con un 69% di forma fisica. ha sofferto molto, ma comunque gli abbiamo fatto entrare i 90 minuti. Delusione di Gabbiadini, che a fine primo tempo è stato sostituito da Belfodil. Belfodil che prima avevo schierato come alla sinistra, poi l'ho messo come prima punta per togliere Gabbiadini. E quindi questo è quanto. Un pareggio che ci sta, perché l'abbiamo sofferta, quindi va bene così. Volevo iniziare con le tre vittorie, ma pazienza. Sette punti nelle prime tre partite non è male. Andiamo a vedere cosa dice la classifica. La classifica dopo tre giornate dice che noi siamo secondi a pari punti con la Juve. Però in queste prime giornate la classifica vuol dire tutto e niente, perché se voi notate, fino al... Qui, ottavo posto, abbiamo Lazio, che può raggiungerci a pari punti se vincesse. E poi Cagliari, Sassuolo, Milan e Udinese, che addirittura ci sorpasserebbero, quindi potremmo arrivare anche sesti in classifica o settimi. Comunque, va bene così. Devo dire che la stagione è iniziata abbastanza bene. Due gol soli subiti. Quattro fatti, quindi ci stiamo un attimo regolando anche con la fase difensiva. Mi stanno dando abbastanza soddisfazione One Jesus e Ranocchia, e quindi speriamo di continuare così. Ultima cosa, e si parla già di mercato, anche se è appena concluso, ho visto che Kovacic è ricercato dal City. Quindi se arriverà un'offerta importante, valuteremo insieme a quanto venderlo, insomma, perché comunque davanti a tanti tanti soldi, almeno 40 milioni, penso, poi ditemi anche voi se può essere un'offerta accettabile, io lo venderei. Soprattutto magari potremmo investire quei soldi continuando il nostro progetto di italianizzazione, ce l'ho fatta dirlo. Ok, per oggi comunque è tutto. Vi ripeto, fatemi sapere come vi sono sembrate le partite. Nel prossimo aggiornamento arriveremo fino al Torino, quindi al pre-partita di Manchester United-Inter. Quindi quattro partite da seguire assieme. Vi ringrazio comunque per aver guardato il video. Se vi è piaciuto mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto. Alla prossima!